ciao ragazzi allora scusate sia la luce che lo so che sbagliata ma molto tardi sia il fatto che i miei capelli hanno una configurazione assurda che purtroppo devo devo lavarli solo che non ho avuto tempo di far nulla oggi in realtà ho perso un sacco di tempo perché dovevo studiare cieco dovevo studiare russo e dovevo studiare pure tedesco quindi adesso mi sono ridotta a fare questo video questo video volevo farvi soltanto vedere alcune bellissime immagini di luna che ho trovato passeggiando nel parco nel senso che passeggiavamo io il mio uomo nel parco e ho trovato con questa bellissima luna ve la faccio vedere qui se riesco sono molto molto imbranata con queste cose e vi lascio alcune immagini forse anche a fine del di questo video se riesco nel montaggio però diciamo che ho visto questa luna e non lo so mi ha ispirato se qualcuno mi può puoi dare maggiori informazioni sulla luna io sono qui pronta a ricevere le informazioni perché in realtà è una cosa strana quando voglio imparare le cose in cieco non so perché c'è un bellissimo canale in cieco in cui traducono in cieco alcune trasmissioni americane dove parlano appunto di pianeti delle nane bianche dei buchi neri del sole delle stelle così e io li trovo sempre molto interessanti infatti intenzione di cercarci di cercare di capirci qualcosa questo è tutto io vi lascio e vi mando un bacio alla prossima ciao grazie a tutti